Fipe e Federvini hanno presentato a Roma, presso la sede di Confcommercio di Piazza Gioacchino Belli, Bere Meglio, un progetto nazionale a favore di un consumo responsabile di bevande alcoliche. Le due federazioni, dopo il successo della fase pilota, hanno annunciato l'avvio della fase successiva del progetto, che verrà esteso al centro e al sud del nostro paese, per promuovere una cultura del bere mediterraneo all'interno dei pubblici servizi italiani. Fipe e Federvini si fanno quindi carico insieme di un progetto di responsabilità sociale, diventando promotrici di una cultura del bere meglio e quindi responsabilmente, attraverso l'attivazione di specifici corsi per gestori e per gli addetti nei pubblici esercizi. Le due federazioni mettono questo progetto a disposizione delle istituzioni e del Ministero della Salute, con l'obiettivo di attivare una sinergia tra pubblico e privato su tutto il territorio nazionale, raggiungendo un potenziale bacino composto da 360.000 operatori, che diventeranno master del consumo di qualità e portatori di responsabilità verso i loro clienti. Alcol e salute sono due sostantivi che sono assolutamente abbinati, perché nella misura in cui si mangia e si beve bene ne hanno gli effetti anche sulla salute. E su questi temi, evidentemente, l'obiettivo della Fipe è quello di diffondere cultura tra gli imprenditori del nostro settore, affinché facciano anche educazione e formazione contro quelli che sono oggi gli abusi, le devianze e gli eccessi che portano poi alle patologie che vogliamo contrastare. Bere mediterraneo oppure bere meglio, la stessa cosa? Beh, certamente sì, perché la finalità è quella di educare sull'uso consapevole dell'alcol, perché, come dicevo, dietro agli abusi si accompagnano le patologie, le malattie di natura alimentare e l'alcolismo è una delle piaghe di questo Paese, che è l'iniziativa alla finalità di contrastare, cercando evidentemente collaborazione di chi produce il vino, ma anche formando ed educando i nostri imprenditori ad accompagnare verso l'uso consapevole, vuol dire a volte anche rinunciare a quelli che sono aspetti di business. Si tratta di educare, di far conoscere, di fare crescere l'attenzione sul bere, come anche nel caso sul mangiare, che sono dei prodotti, sono delle attività ripetitive, ma che non si esauriscono nell'atto del consumo. C'è dietro tutta una cultura, la cultura del bere nel caso nostro, che ovviamente è necessario, sia conosciuta soprattutto dai giovani. Cercare quindi di valorizzare il consumo in maniera corretta e di portare quindi il giovane che si avvicina al prodotto a capire, conoscere, abbinare, gustare, quindi a quello che è il consumo della cultura bagnata tipica nostra, che è lo stile mediterraneo.